Che dice Daniele il nostro... che non devo soffiare troppo? No, non ho detto soffiare. Sciosciare. Esattamente. Non sciosciare troppo. Allora, qual grazia non dà il ventaglio nelle mani di una dama che sappia servirsene a proposito? Ehi, serpeggia, si apre, si chiude, si piega, si alza, si abbassa, secondo le occasioni e le circostanze. Esso è leggiadro, comodo, atto a dar sussiego ad una giovane e a trarla d'impaccio quando si presenta in una conversazione o quando diventa rossa. È un linguaggio. E sono parole tratte da un testo del Settecento, Guido, ad opera del marchese Louis-Antoine de Caraccioli, che parla del linguaggio del ventaglio. Laura, tu conosci il bon ton del ventaglio, parlaci un po'. Allora, per esempio... Voglio conoscerlo. Conquista Guido Barlozzetti, adesso così... Diventerai uno. Così. Ah, che succede a questo? È l'occasione. L'hai fatto cadere? Per galanteria non si può non raccogliere. Esatto. Lo devo aprire? No, 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 è mia. È una gestione mia. È lei che apre. Perché sono io che apro e faccio così. Ah, vuol dire che desidero parlarti. Guarda come sono interessati, Paolo, il mio parodetto. Se tu non facessi questo, quindi... Si tocca il ventaglio, si tocca il ventaglio. No, se non facessi questo, non voglio parlarti tra noi. Si è proprio un'arma di seduzione incredibile. Ma è nata come arma di marketing. Nel 1800 il fabbricante francese che lo vendeva aveva messo vicino un bugiardino in cui c'erano tutte le armi di seduzione tipo ti amo sulla guancia destra. Oh, ho capito, Gigi. Non ti amo. Non ti amo come? Da sinistra. Ah, la sinistra non ti amo. Ti amo sulla guancia destra? Non ti amo sulla sinistra. Tengo famiglia. Laura, questo linguaggio del quale state parlando appartiene ai giovani di oggi o no? No, non appartiene ai giovani di oggi, ma sarebbe... La vedo male. E comunque, ad esempio, il ti odio che i giovani dicono in forma di approvazione e di dire bravo, dicono l'estremo ti odio. Col ventaglio era così. Posso dire una cosa? E invece sono già impegnata come? Ah, proprio non ce ne parla. Ah, ti nascondi completamente. E oppure per comunicare, lui fa il galante un po' troppo, sono sposata e lo sono. Quindi fermi... Ah... Se invece sono fidanzata... Ecco. E se sei disponibile? Non lo so. Non lo guardavo. Dico, né sposata né fidanzata? Eh, amico. Ah, ecco. Amico, sì. Però questa cosa della donna che muove il ventaglio, alla fine, considerando che gli maschi hanno fatto sempre in modo che la donna stesse ferma e sotto controllo, era questo movimento, questo prendere aria della donna, era anche un segnale, come dire, di libertà in qualche modo. Era un segnale di libertà? Di rivendicazione di una sua forza femminile. Sono io che gestisco le cose. Che comandi, cioè. In realtà, un pochino il gioco lo porta avanti. Beh, il gioco della seduzione, no? Esatto, lo porta avanti la donna. Era un'arma importante, ma può ritornare di moda, secondo voi? Io lo spero. Beh, ad esempio, Karl Lagerfeld ne ha fatto una cifra al suo ventaglio, se ci pensiamo. Lui usciva sempre fuori dalle sfilate col ventaglio. Oppure, un'altra cosa molto bella, un altro francese sui ventagli spruzzava il proprio profumo, per cui io emanavo profumo. Era aria condizionata. Soprattutto su quelli con le piume. Questi con le piume, in realtà, sono da sera. A parte che muovere un po' di polvere. Siamo nella belle époque, però sono piume da ballo. E allora la signora se lo doveva acquistare. Non se lo doveva acquistare, ma ha regalato, perché le piume, per le superstiziose, magari, napoletane, non portano bene. È certo, hai capito, non portano bene. Ma io vorrei riagganciarmi, ritornare al collegamento. Erminia e Daniela, giusto? Ci siete? Laura, Laura. Sì. Sì, sì. Eccovi. Sì, ci siamo. Allora, volevo sapere qualcosa in più della sua collezione, signora, perché sono affascinata. Ma Luigi XIV non c'è? Luigi XIV c'è? No, Luigi XIV no. Abbiamo il 16, 14 ci manca. Mi dispiace. Ma un carino, molto particolare, è un ventaglio della Maison Creusie, parliamo di un ventaglio dell'Ottocento, da bambina, perché anche le bambine venivano indottrinate fin da piccole, proprio all'utilizzo del ventaglio, addirittura, venivano fatte anche per le loro bambole. Così imparavano da piccoline il linguaggio e l'utilizzo di questo splendido accessorio irrinunciabile e comunque era uno status symbol anche della persona che se lo faceva comunque commissionare. Ah, lo faceva commissionare. Wow. Gigi, ma tu hai mai regalato un ventaglio? Sì, a mia mamma. A mia mamma ho regalato più di un ventaglio ed era un regalo molto ben accettato da mia mamma. Ma quindi Laura Guido si può dire ventaglio, un glorioso passato, un futuro incerto? No. Un futuro incerto? No. Vero difficile prendere il telefonino e usarlo come un ventaglio. Vero. Però chissà. Il telefonino lo vedo difficile. Allora, anche quelli più grandi chiediamo a un influencer di iniziare a usare il ventaglio. Vero? E così tornerà di gran moda. Eh sì. Allora, grazie per essere stati con noi. Grazie. Voglio salutare Erminia e Daniela in collegamento. Grazie per averci fatto entrare in questo mondo. Grazie. Grazie a voi. Grazie infinite. Affascinante. Adesso noi parleremo di queste... Perché non restate con noi?